Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti ha consegnato il sigillo della città a Italo Zanier, fotografo, storico e critico della fotografia, nato nel 1932 a Spilimbergo. Un doveroso e sentito omaggio della nostra città ad una delle figure più importanti della scena fotografica italiana degli ultimi decenni. Principale animatore del gruppo friulano per la nuova fotografia, studioso tra i maggiori al mondo, autore di innumerevoli saggi e libri. La cerimonia si è svolta venerdì 8 giugno, proprio il giorno precedente, l'ottantesimo compleanno del maestro, all'interno della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone. Questa sera abbiamo il grande onore di dare il sigillo della città a Italo Zanier, che sia un personaggio carismatico. Non abbiamo avuto una conferma quando la fiera è stata inaugurata. Questa sera sarà di fatto una festa, perché sapendo delle sue capacità quasi strioniche di raccontare, di intrattenere, di commentare quello che succede intorno, quasi di dare senso a quelle immagini statiche che lui riproduce nelle sue fotografie, ci aspettiamo un evento in cui tutta la città è chiamata quasi a partecipare. Per Pordenone è un grande onore avere un altro sigillo dato ad una personalità così importante, vuol dire che con lui abbiamo fatto qualcosa e questo costituisce un'eredità ed una parte della nostra cultura e quindi del nostro modo di vivere andando avanti. Questo importante riconoscimento si aggiunge ad una serie di iniziative collegate alla mostra Italo Zanier, la sfida della fotografia, allestita all'interno degli spazi espositivi di via Bertossi, luogo dedicato dal comune di Pordenone alla cultura della fotografia. La mostra può essere visitata fino al 26 agosto 2012.